Sono stati due giorni intensi per gli studenti del liceo classico, linguistico, coreotico e artistico audiovisivo multimediale Ruggero VII di Caltanissetta. I ragazzi e le ragazze della scuola hanno potuto partecipare infatti ad un workshop con la danzatrice e coreografa, considerata la pioniera della danza contemporanea in Italia, Elsa Piperno. Un approfondimento sulla tecnica di Marta Graham, che ha visto la partecipazione di alcuni studenti dei licei che fanno parte della rete dei licei coreotici siciliani. E sono state invitate anche le scuole di danza della città, che hanno sottoscritto una convenzione per la promozione di iniziative legate al mondo della cultura e della danza. Dal momento che la tecnica di Marta Graham è basata sulla fisiologia del corpo e sui principi dell'universo, evidentemente questi sono quelli che io cerco di trasmettere. Poi per quanto riguarda, in senso lato, la trasmissione agli allievi, io credo che avviene e deve avvenire attraverso quelli che sono i valori che ci sono nella società, i principi morali e diciamo tutto quello che c'è di positivo nella cultura e nell'arte. E quindi ecco, questo è quello che io voglio trasmettere e cerco di trasmettere ormai da mezzo secolo. Sono stata definita erede della pioniera della danza moderna in Italia di Elsa Piperno e con grande orgoglio mi sono prefissa un obiettivo nella vita, quello di continuare a trasmettere questo linguaggio e far conoscere ai ragazzi le fondamenta di questa tecnica. Ovviamente già abbiamo iniziato lo studio della tecnica gramma ed è stato un grande orgoglio invitare la mia maestra, nonché definita da me madre della mia anima danzante, in questi giorni meravigliosi qui al liceo coreotico di Caltanissetta, dove ci stiamo nutriendo di tanta tanta e meravigliosa energia vitale. Venerdì 27 gennaio, in occasione della giornata della memoria, Elsa Piperno sarà presente a scuola per raccontare la propria testimonianza di discriminazione subita e non solo. Io sono qua oltre che a testimoniare quella che è stata una mia personale vicissitudine, anche per portare la testimonianza di Piero Terracina, che è scomparso da non molto e che è uno dei superstiti del campo di concentramento di Auschwitz, è uno dei pochi sopravvissuti che ci ha lasciato poco tempo fa e che dopo essere stato per 30 anni in silenzio, ha deciso negli ultimi vent'anni della sua vita invece di andare nei licei e parlare con i ragazzi. Lui ha parlato con migliaia di ragazzi e diciamo che io lo conosco molto bene perché è un mio zio acquisito e quindi lo conosco da quando sono bambina e questa persona è stata veramente straordinaria e quindi mi farà molto piacere in un certo qual modo essere portatrice anche della sua parola. La persecuzione degli ebrei e la Shoah sono il periodo più scuro della storia, la storia a noi più vicina e non possiamo dimenticarla nonostante passino i decenni. Ecco perché abbiamo voluto cogliere l'occasione della presenza della professoressa Elsa Piperno per che i ragazzi possano cogliere una testimonianza diretta della discriminazione e possano capire come superarla, come vincerla, come fare che non accada mai più.